Vi do il benvenuto in questo nuovo video, sono TonyGamer17 e si ho cambiato da salve a tutti a vi do il benvenuto Ok ragazzi, oggi vi mostro come settare al meglio OBS Studio e non sto scherzando veramente una favola Ho fatto un settaggio da Dio e ho registrato Minecraft con la Shades Quindi che cosa ho fatto? Ho aperto OBS Studio, guardate, ascoltate, ho aperto OBS Studio, andato su impostazioni e dopo tante ore di test, settaggi e alla fine ce l'ho fatta Quindi se andiamo su uscita riguardo alle dirette, noi possiamo vedere che le dirette sono settate su 2500 kbps Quindi sull'intervallo dei fotogrammi chiave 0, quindi sulle dirette a noi non ce ne frega niente Perché a me interessa la registrazione Quindi per quelli che vogliono registrare restino pure a guardare il video Per quelli che vogliono fare le dirette vanno da un'altra parte, quindi l'uscita è alla vostra destra Ok, andiamo un attimo sulle registrazioni Quindi percorso di registrazione, beh, è facile Quindi creare una cartella dove andrete a salvare i vostri file Ok, fatto Traccia audio, selezionate 1 Codifica, ah, signore, signore, allora Questo è il passaggio più importante di tutto il pannello delle impostazioni Quindi andiamo sulla codifica e inserite in video Esatto Questa opzione E basta Basta Per quelli che hanno una scheda video in video Quindi inserite questo Inserite questo setting giusto per OBS E poi passiamo al prossimo setting Quindi tipo di controllo della frequenza Quindi CQP Livello di quantificazione costante Quindi inserite 15 Intervallo dei fotogrammi Chiave in secondi Quindi inserite 2 E Per finire abbiamo la qualità E poi sempre la qualità Come profilo e preset Però Però Possiamo sempre inserire la massima qualità Solo chi ha un buon pc Può impostarlo Quindi io inserisco massima qualità Per quelli che hanno un pc Come dire Senza offesa Scadente Mettete bassa latenza Qualità e prestazioni Quindi io adesso metto qualità E poi niente Abbiamo fatto E adesso faremo un test Applica Ok Andiamo a registrare un gioco Quindi Minecraft Sì 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 Quindi prepariamo un attimo la cartella Questo pc Ok Sì Dove è la cartella famosissima Eccola qua Quindi andiamo F11 Giocatore singolo Gioco nel mondo selezionato Non so se si sente L'audio Lì perché ho impostato Un attimo Sì Vediamo un attimo Ok F12 Per registrare Ok vai Niente male C'è uscito una bella camminata Vediamo come va Niente male Sì Esatto Niente male Perfetto Devo dire Ok Ora un attimo Una pausa Esce F11 F12 E andiamo sulla cartella Ok Andiamo a vedere Ah Ecco Ecco la Giusta Impostazione D'addio Ma Splendita Non lagga Ragazzi Non lagga Va fluidissimo Ok No 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 Troppo 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 Bello Non c'è storia Chiudi Di tutto Aggiorni Chiudi No Setting Perfetto Io lo dico Setting Perfetto Quindi Grazie a tutti Per questa visione Iscriviti al canale Per un Un prossimo video Quindi Attiva anche la campanellina Lascia like al video E Niente Quindi Grazie a tutti E Ciao Ciao